No, 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 aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Meglio non sottovalutare quello che non conosci. Sottovaluta quello che conosci, ma non quello che non conosci. Tutto a posto. Sì, sì. Ne avevo un pochettino di bisogno, mi sembra. Aspetti, per provare solo su se stassi. Ne funzionare, funzionano? I risultati si vengono subito. Se non spreca comunque subito l'effetto. Ma sono effetti che durano, oppure... Durano poco, ma usandoli, poi non ci sono più. Si usano, appunto sono incandati. Beh, ti faccio vedere. Dovrei domani a casa, voi domani siete qui? Sì. Se lei mi dice che viene con quel soggetto, sì. Non dico per tutti. O comunque sia, se sempre nella zona ci possiamo rincontrare. Volendo ci potremmo anche rincontrare. Siamo andati a casa sua. Sempre stando lontani dalla porta. No, facciamo così. Una data e... Ci incontriamo lontano. No, scopre no. Non tocca a casa. Sto mai no. Facciamo così. 15 luna. Perfetto. Così magari... 15 luna è un anno e mezzo. Aspetta. 15 notti. 15 soli. No, però è di giorno. Siccome lui vuole di sera... Ma una luna è 28 giorni. Vabbè, ok. Allora... 15 hai detto 15... 15 giorni. 15 giorni. Quindi non più al calare della doma. No. No, io tra 15 giorni... Sì. La ragazza. Salvo sonno. No, no. Ma mi è piaciuto che qui se devo distanque. Abbastanza. Come si chiama? Genti scambio, vai. Sonno. Sì, fa abbastanza. Sonno. Sonno. Domanda, domanda. Com'è possibile che tutti si stanno tormentando? Certamente è una cosa un pochettino strana. Beh, non so se... Sonno perché... Sonno. Sonno rimasto io. Facciamo... 15 giorni. Tra 15 giorni ci vediamo. Magari potremmo non ci approfondire alcuni discorsi. In effetti è mai interessante entrare dentro questa città. Ah, bene. Sì, hai fermato. E in effetti guardandomi bene sembra che ci fosse dei voli con l'altro. Non sarebbe male. Vediamo se anche il nostro amico qui vuole venire con noi. Si vuole unire a questo gruppo. E posso chiedervi per quale motivo anche voi volete entrare. Avete detto che siete stati... Io ho detto che ci sono speso con dei miei amici. Ah, bene. Ci potrebbero essere una cosa che mi dovrebbe interessare. Bene. Ci sono ancora delle mie cose. Mmh, capito. Perciò magari se ci piaceremo bene, è meglio di poter dare oggetti. Ovviamente per soldi, però... Prezzo amico. Prezzo amico? Vabbè, ok. E voi ci fate entrare dentro la città. No, vabbè, in questi 15 giorni si vedono un mondo. Vabbè. D'accordo, io spero che si risvegli. Capito? È abbastanza presto. Beh... Sì. Vabbè... Quindici giorni. Quindici giorni? Beh. Beh, allora... Quanti si rivolgono? Il nominato, ancora. Però la prossima volta spero di potestelo dire. No, vabbè. Beh, allora... Allora... C'è una motivazione di una causa. Beh, sì. Viene derivo. Ne si avrà dito la prossima volta. Ok, vabbè. Allora... Arrivederci. Saluteci miei amici. Grazie. Spero... Spero che si svegliano un resto. Beh, un calcio in pancia si svegliano. Un calcio in pancia? Ok, provo. Svegliato. Se svegliato. Svegli un calcio in pancia basta. Ok. Svegliato. 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 Oh. Ma è... Spuia. Sì. Rapid. Svegliato. Vi devo svegliare io. Sveglia. Tocco in pancia. C'è che mi svegliate. Ah, ragazzi, siamo sbagliati. Tocco in pancia e mi svegliate. Io avevo un meditato per due volte. Non potevo svegliare. Non sono per me. Vabbè, ma questo qui era una cosa proprio normale. Ci ha voluto far capire che è molto potente, però disidenzialmente pensa di esserlo anche troppo. E quando una persona crede di esserlo troppo e di sapere troppo ha passato le proprie difese. Mi sa che tra le decisioni ci facciamo troverso. Sì, naturalmente sì. Sì, naturalmente sì. E grazie agli oggetti che ci derà, capiremo anche... Mi chieda qualcosa quando vado a buttare la sera. Ma qual è? Io ho la domanda con la tua mano. Naturalmente non penso che io mi chiederei accettando la piazza. Ma salvò. È il tuo. È il tuo. È il tuo. È il tuo. Ma realmente il giorno non penso che io forse dovrà... Anche la luce...